Noi applichiamo tutte quelle che sono le teorie, i modelli e gli studi psicologici per comprendere i processi decisionali delle persone nelle scelte alimentari, al supermercato ma anche nella costruzione delle proprie diete. Studiamo le nuove tendenze alimentari, studiamo le difficoltà nel cambiare tendenze alimentari, studiamo anche quelli che sono gli atteggiamenti, il livello di accettazione dell'innovazione tecnologica nella filiera agroalimentare, dalla genetica agraria all'utilizzo della robotica, all'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto dell'innovazione scientifica. Un altro elemento che studiamo è quello della comunicazione tra scienza e società, qual è il livello di fiducia che la cittadinanza ha nell'innovazione scientifica e in particolare nella filiera agroalimentare. Quindi noi ci poniamo la domanda perché, perché di alcuni comportamenti, perché di alcune credenze, perché di alcuni atteggiamenti, perché per esempio le false notizie in ambito agroalimentare hanno così presa sulla nostra psicologia e mettiamo a disposizione le nostre chiavi di lettura teoriche, i nostri modelli scientifici per approfondire queste questioni. Abbiamo un laboratorio di ricerca che si chiama Consumer Science Lab e in particolare è un centro di ricerca che è Engagement Sub che ha sede qua nell'Università Cattolica di Cremona, è una seconda sede nell'Università Cattolica di Milano, a Cremona c'è la prima divisione dedicata all'alimentazione, alle condotte di consumo alimentare. È un centro di ricerca unico, mi sento di dire, in Italia ma anche a livello internazionale perché è focalizzato su un concetto scientifico che è quello dell'engagement, cioè della partecipazione psicologica, del senso motivazionale che le persone hanno nel rendersi protagonisti delle proprie condotte alimentari e di consumo. Noi studiamo che cosa succede nella mente, nei cuori e nella pancia delle persone quando c'è bisogno di cambiare o quando si fa fatica a cambiare le proprie attitudini di consumo alimentare. Ecco, chi fa parte del suo team? In quanti siete a lavorare? Ad oggi sono io come direttore di ricerca, ho tre assegnisti di ricerca alla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, c'è una ricercatrice che è incardinata sulla Facoltà di Psicologia, questo è il core team delle persone che lavorano nella ricerca di base. Abbiamo una serie poi di collaboratori di ricerca tirocinanti di discipline diverse, dalle discipline mediche alle discipline sociologiche ed economiche che coadiuvano le nostre attività di ricerca. In più ci possiamo avvalere di una serie di consulenti che sono già professori all'interno dell'Università Cattolica, nelle diverse sedi, dalla sede non solo piacentina e cremonese ma anche milanese e romana, che ci danno consulenze dalla statistica all'economia, alla medicina, alle tecnologie agrarie, in modo da diventare effettivamente un hub, cioè un luogo, un crocevia di sapere e di discipline a servizio dello studio dei comportamenti e delle attitudini dei consumatori nell'ambito agroalimentare. È anche un unicum il momento della pandemia, che vi sta dando la possibilità di raccogliere risultati anche molto diversi da quelli che potevate raccogliere in passato, è così? Questo è assolutamente vero, noi stiamo monitorando da un anno quelli che sono gli atteggiamenti, le condotte di consumo alimentare, ma anche di condotte di salute degli italiani su un campione rappresentativo di italiani, è un osservatorio continuativo. Questo secondo me è uno scenario che nella sua drammaticità mette in luce l'importanza della responsabilità individuale e sociale degli individui e quindi l'importanza appunto del loro engagement, cioè della voglia di partecipare attivamente o al contrario di essere deleganti rispetto alle proprie scelte e decisioni. Per noi questo è un osservatorio a cielo aperto, perché stiamo studiando quelle che sono le dinamiche psicologiche che stanno alla base di alcune condotte, ad esempio l'esistenza vaccinale, cioè il fatto di decidere di vaccinarsi contro Covid oppure no, i motivi per cui siamo aderenti al mettere la mascherina oppure no, i motivi per cui siamo più o meno preoccupati dell'andamento dei consumi e dell'economia, i motivi che ci portano a essere più o meno fiduciosi verso la scienza, verso l'innovazione in ambito medico ma anche in ambito alimentare. Ecco, tutti questi motivi sono l'oggetto del nostro studio da sempre. Certamente nello spaccato di Covid-19 ci sembra di avere anche una chiamata etica, insomma, di dare delle chiavi non solo di lettura del comportamento di tutti noi cittadini, ma anche per poter orientare poi delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione, volte a promuovere questa responsabilità civica, questa responsabilità di salute e nei comportamenti di consumo.